Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nickwing Game Attualmente la nostra ciurma è composta ovviamente da Fia, la nostra piratessa Dal cuoco toia, dal tesoriere Quentin e dal carpintiere, non mi ricordo cosa faceva lui ragazzi In realtà capomastro o qualcosa del genere, John Andiamo subito al tavolo Baia di ferro, isola della penitenza, andiamo alla baia di ferro ragazzi, mi sa eh Si dai Grazie a tutti Grazie a tutti Cenere e minerali Questi sono i nostri obiettivi Una perla nera è stata consegnata Alla baia di ferro, prendiamola prima che la distruggano Vai, partiamo Non sarà sicuramente semplice Grazie a tutti Grazie a tutti Man wird es zu den Schmelzöfen geschafft haben, um es in Eisen zu riefen Grazie a tutti 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 Lui è un civile Un civile Grazie a tutti E i primi due li abbiamo seccati Perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forse non lo vede nessuno C'è il commissario che fa il commissario che fa avanti e indietro Grazie a tutti 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 Perfetto Grazie a tutti 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 Ci serve Ci serve Grazie a tutti Ecco 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 non so se è meglio Lui si è meglio Lui si è meglio Merda Un momento Allora Allora proviamo così Allora proviamo così Ok 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 Non so come Ma non vede il corpo Perfetto Allora Che palla Che palla è questo Buttiamo 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 di qua sotto Ok Ehm Beh non dovrebbe essere un problema eliminare questi tre Questi quattro Ok 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 Allora A lui lo mandiamo qui che da più veloce E lì Perfetto Facevo venire anche il nostro Tesuriere C'è qualcuno qui che lo vede A lui? Non credo Non credo però non mi fido Perché c'è sempre qualcuno Inboscato Possiamo buttarlo qua? No Peccato Eh lascialo qui Intanto non lo vede nessuno qui Wird erledigt Eine Beichtschwester auf Sì. Che cazzo. Guardate che lentezza sospetta. Ma si era bloccato, ragazzi. Sarà bloccato. Aspettiamo. Potremmo anche lasciarlo là, in realtà. Magari mando lui. Ok. Ok. Mettiamoci qua. Sto pensando, ragazzi. Forse possiamo buttare questa arruccia qua. Perché volevo fare il giro e ammazzare queste due insieme. Oh, lei. Ok. Ok. A posto. Mi metto qui. Nessuno di questi ci vede. Pro salvo. Salvo qua. Ok. Ok. La torcia dove stava? Ah, sta qui. Sta qui. Ok. Beh, la prendiamo dopo. L'importante è averla vista. che loro fanno il giro si fermano anche. Questo si sposta potrei avere il tempo di eliminare a lui. Il giro si fermano anche. Grazie a tutti. Ma mi vede, mi vede allo stesso. Mi vede allo stesso ragazzi, va bene. Ok, zitti, zitti. Un festschmaus für meine Klinge. Ich bin bald dort. Ach, schwer. Versuchen wir es. Schwerer Kunde. Güldene Grüße. Wer hat Köder der anderen Atmos? Perfetto. Eliminiamo anche questi due, magari insieme. Perché tanto questo... Alltså, abgemacht. Battura sta qua. Meine Seele ist rasiermesser sharp. Sie an, sie an. Jetzt wird das was. Hat jemand's hunger? Met etwas Würze? Potrei provarci, ma... Non credo che funzionerà. A meno che non facciamo un'altra cosa. Facciamo così. Ok. 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 Qui ci sono munizioni, eh Attenzione Ma dai Ma non è vero, ragazzi Non potevo vedermi Ma questi non si muovono? Beh, se questi non si muovono Però Ok, zitti, zitti, zitti Allora, se la sparo in teoria Nessuno la sente Cioè, se sparo nessuno sente il colpo Proviamo Ah, un rezept per la prossima strategia Tucket Ok Ok Porca di quella puttana La facciamo salire qui Ora, l'idea è quella di sparare anche a lui Ci sono questi Ma forse non mi disturbano Non Tornando a noi Che è successo un macello L'idea è quella di Eliminare a lui sparandogli È salvo Minchia, ma mi vedono da ogni angolazione, ragazzi Uffa Mi metto qua E facciamo così Eh, vaffanculo Non ce la faccio a salire qui, eh Mi sa proprio di no, ragazzi No Fa il giro Fa il giro Fa il giro, ragazzi Ma forse di no, ragazzi Ma forse di no, ragazzi Ok Sarebbe bello arrivare fin qua Ma Ma Ho preteso troppo Ho preteso troppo, ragazzi Ok Ok, era l'unico angolo cieco che avevamo E l'abbiamo sfruttato Bene Però Non è ancora finita Perché Questi come cacchio Li faccio fuori Potrei usare Eh, perché adesso Mi stavo completamente Dimenticando, eh Ma potrei usare Il diversivo Il diversivo Eh, mi vede lui Mi vede lui Sì, eh Ragazzi Sì, devo usare il diversivo Devo usare il diversivo Eh, magari a lui Lo rimandiamo qua Sotto Mi facciamo prendere Le munizioni Dello schioppo Mi facciamo prendere Le munizioni Mi facciamo prendere Le munizioni Mi facciamo prendere Di energie In diesem Widerlichen Ding Wurde Das Feuer Völlig Ich halte Fest Was Mir Gehört Dovrebbe funzionare così, eh Non si spostano Però tutti Si spostano solo Questi due Ok 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 Dein Ende Sein Hallo Bye No. Questo qui forse riusciamo ad attirarlo? Proviamo da qua. Eh, lui è distante. Non può aiutarci. Sì, se fischiamo il bastardo se ne accorge, ci blocca. Non me l'aspettavo. Dobbiamo fare una cosa un po' più tecnico-tattica, ragazzi. Sì. Das halte ich fest. Ein Fingerschnipsen. Bringt klingende Münze? Ich kann es sehen. Un Fingerschnipsen. Un Fingerschnipsen für meine Klinge. Ich erinnere mich. Selten. Das habe ich gehört. Oh, verblüffend. Okay. A posto. Pila Perla. Grande. Uh, beh, potevo usare il diversivo già molto prima, ragazzi. Però, come avete visto, soltanto quelle due guardie venivano a tratte. Forse anche qualcun altro che gli abbiamo ucciso può darsi. Però, vabbè, è andata così. A posto. No. Non, Frau Navigatorin. che abbiamo attivato molto bene Puoi sbloccare un potenziamento Interessante Quo sei appena? Il Capitano mi è stato riusciti Il primo a che mi è ricordato È la sua stessa, che mi ha dato il mio nome Ho già conosciuto altre Schiffszele, però nessuno è stato forte come tu Ho fatto il Palme di una storia di un poissile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti